Carburante a presto agevolato al porto di Pila per i lavoratori del mare, una novità della quale tanti avvertiranno il bisogno, quella messa a disposizione dei pescatori grazie alla cooperativa Pila. Nella mattinata di ieri al porto di Pila è stato inaugurato il distributore di carburante agevolato per i pescatori. Erano presenti il sindaco del comune di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, l'assessore Tania Bertaggia, il presidente della cooperativa Pescatori Pila, Giuliano Mazzucco, il vicepresidente Giovanni Franzoso, il direttore Luigino Pelà, i consiglieri Flavio Crepaldi e Isma Veronese, i responsabili del distributore Marchesini e Marilena Annalin. Il titolare delegazione di spiaggia di Pila di Porto Tolle, Alfonso Ambroggio Silvio e il secondo capo scelto, Primerano Domenico. Voglio ringraziare per questo traguardo raggiunto il comune, ha detto il presidente Mazzucco, la capitaneria di Porto e tutti coloro che si sono spesi a supporto del progetto che oggi divene realtà e che costituisce un aiuto per i nostri pescatori. Mi congratulo con la cooperativa, ha proseguito l'assessore Tania Bertaggia, per essere giunta al traguardo di un percorso assai articolato e frutto di importanti investimenti. Si tratta di un'importante agevolazione per i pescatori, che potranno apprezzare un aumento di marginalità dei loro utili. Pila è uno dei migliori esempi di impresa e volontà di crescita, ha tenuto a ribadire il sindaco Pizzoli. In pochi anni questo porto, che è il primo per pesce azzurro in Italia, è divenuto una grande realtà. Stiamo per realizzare il decimo stralcio per il suo completamento e ampliamento, un intervento del valore di 1.600.000 euro, di cui 800.000 stanziati dal comune. La sua crescita si configura come un impulso di crescita di tutto il comune. La sua crescita è la sua crescita.